Oggi la Commissione europea confermerà i dati negativi sull'economia italiana per Bruxelles. Il PIL del 2019 sarà appena sotto lo 0,2%, ampiamente al di sotto appunto delle previsioni. Nel rapporto del Fondo Monetario Internazionale, presentato ieri, duro il giudizio sulla manovra economica del nostro governo. Si parla di un rischio Italia che potrebbe avere ricadute a livello mondiale. E sale la tensione nel governo dopo la consegna del dossier costi-benefici della tabala Francia, l'Unione Europea, il Ministro dell'Interno e il Vicepremier Salvini critica la decisione di non metterne a conoscenza della relazione prima i partner di governo. Sarà oggi sul tavolo della Giunta per le Immunità, intanto del Senato, la memoria scritta da Matteo Salvini contro la richiesta di autorizzazione a procedere per il caso Diciotti. Si cerca una via diplomatica per uscire dalla crisi in Venezuela. Oggi al via a Montevideo, in Uruguay, una proposta di mediazione avanzata da alcuni paesi sudamericani e dall'Unione Europea. Una riunione di alto livello a cui partecipa anche il nostro Ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, per portare però avanti la linea della neutralità finora affermata dal governo italiano. Svolta nelle indagini per il ferimento di Emanuele Bortuzzo, il nuotatore colpito da un proiettile nella notte tra sabato e domenica a Roma, due giovani di 24 e 25 anni, entrambi di a Cilia, si sono consegnate alla polizia dopo il ritrovamento della pistola utilizzata per l'agguato. Abbiamo sparato per errore, hanno ammesso i due. Bortuzzo, che è fuori pericolo, non potrà più camminare. Le 7.30 in questo momento, buongiorno, benvenuti al telegiornale. Telegiornale che apriamo andando a vedere i dati economici. Ieri c'erano state le anticipazioni e le previsioni del Fondo Monetario Internazionale, oggi dovrebbero arrivare le conferme da parte dell'Europa e per noi non sono buone notizie. È stato visto al ribasso la crescita italiana e quindi addirittura si potrebbe attestare a un misero 0,2%. Se pensate che partivamo da previsioni di un 1,2, voi capite bene che davvero l'avoragine che si apre è tanta. Proviamo a quantificarla, questa voragine. Si parla di circa 10 miliardi, 10 miliardi che verrebbero a mancare e che dovremmo in qualche modo ripianare. Non però con una manovra aggiuntiva, almeno diciamo così, a breve, almeno questo è quanto fu deciso già a Natale in accordi più o meno ufficiali fra il nostro Paese e l'Europa, anche perché, come sapete, a maggio si goda. No, Presidente Conte, non ci sarà nessun secondo semestre bellissimo per i conti italiani. Ricordate? Lo annunciava settimane fa il primo ministro il Fondo Monetario Internazionale, subito dopo disse che no, non sarebbe stato proprio così, rispolverando il famigerato rischio Italia. Parole in attesa dei conti reali, dei calcoli e delle previsioni che tra qualche ora la Commissione europea, anche lei, renderà pubblici e di cui già si sa quel che conta, ovvero che secondo l'Unione europea la quota 100 per le pensioni farà crescere i costi della previdenza, che il contestato reddito dei cittadinanzi in effetti potrebbe disincentivare il lavoro, che, se la recessione ora è tecnica, potrebbe rapidamente trasformarsi in recessione reale, che potremmo sentir nuovamente risuonare la parola contagio con conseguenze facili da immaginare. Perché oltretutto, e qui si torna al giudizio dell'FMI, l'Italia resta Paese con entrate deboli, disoccupazione elevata, così come elevato è il debito pubblico. E allora, guardando i numeri, il Fondo Monetario dice crescita allo 0,6%, la Commissione europea addirittura allo 0,2%, mentre l'ufficio parlamentare di bilancio si piazza nel mezzo con un più 0,4%, mentre le stime del Governo parlavano di un punto secco di crescita, mentre facendo due calcoli e due incroci, per chi controlla l'economia mondiale non si va oltre lo 0, aggiunge ancora l'FMI, anche gli anni a venire saranno in Italia sotto il fatidico 1%, Italia, dove ricorda l'istituzione monetaria di Washington, oltre il 20% della popolazione è a rischio povertà, dove l'emigrazione dei cittadini italiani è oramai vicina ai suoi massimi degli ultimi dieci lustri. E allora vediamo quali sono gli altri dossier sul tavolo, quelli che rischiano di mettere in crisi il Governo, al di là delle questioni economiche. Il Tav, per esempio, è uno di questi, anche se ufficialmente, come sapete, la cosiddetta analisi costi-benefici al momento è solo nelle mani dei francesi e dell'Europa e non è stata resa pubblica, diciamo, non è stata diffusa, per esempio, al Parlamento, già in realtà girano le cifre e sembrerebbe, insomma, che si sia fuori, se mi lasciate passare questo termine, di circa 6 miliardi, ovvero non converrebbe farla per 6 miliardi. Non è d'accordo, come sapete, la Lega che insiste sulla necessità, appunto, di costruire questo passante. Sempre più nodo centrale per la tenuta degli equilibri tra gli alleati di Governo, l'analisi costi-benefici sul Tav è intanto arrivata a Bruxelles, inviata dal Ministero dei Trasporti e la Commissione Europea, dove i tecnici si preparano ad analizzarla. Prima l'aveva ricevuta la Francia tramite l'ambasciatore francese a Roma. Una mossa definita bizzarra da un infastidito Matteo Salvini. Perché numeri così importanti arrivano prima a Parigi? Io non cambio idea, l'Italia sulle grandi opere deve andare avanti, ha detto il Vice Premier, che non vuole sentir parlare di scambio con gli alleati. Il dossier Tav non è negoziabile, anche se sul tavolo dovesse esserci il no all'autorizzazione a procedere per il caso Diciotti. A tenere alta la tensione, però, la risposta del collega Vice Premier Pentastellato. Di Maio dice a Salvini che anche lui non ha letto l'analisi, che non si alza la mattina pensando a come collegare l'Italia con la Francia, ma semmai gli italiani con gli italiani. Salvini deve avere ancora un po' di pazienza, ha detto invece il Ministro Toninelli. Quando sarà il momento gliela porterò io, in una busta chiusa. Il Ministero dei Trasporti ha precisato che il progetto è regolato da un trattato internazionale, quindi l'analisi costi-benefici sul Tav viene preliminarmente condivisa con gli interlocutori diretti, ossia Francia e Commissione Europea. Il timing prevede per il 19 febbraio una riunione del CDA della società italo-francese TELT, incaricata della TAV, riunione che potrebbe slittare se Commissione UE e Francia accettassero di prendere tempo per studiare le carte di Toninelli. E c'è un altro dossier apertissimo, come sapete, è quello del caso Diciotti. Questa mattina, fra poco più di un'ora, alle 8.40 circa, verrà depositata presso la Commissione per l'Immunità del Senato la memoria difensiva di Matteo Salvini, il quale Matteo Salvini dice che non deve essere processato perché le decisioni che ho prese le ho prese collegialmente, eravamo d'accordo, addirittura mi c'erano inserite nel contratto e quindi non ho fatto nulla di male. C'è una parte consistente, il Movimento 5 Stelle, che invece sarebbe orientata a votare per il sì. Tutto questo rimescola, potrebbe rimescolare, diciamo così, equilibri e rapporti politici tenendo anche conto che, come sapete, domenica si vota e Salvini ha un impegno ben preciso con il centrodestra, che vuol dire Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Una memoria corredata da due allegati, uno del Pemer Conte e l'altro del Vice Premier Di Maio e del Ministro Toninelli, in cui viene ribadita la decisione collegiale del Governo in merito allo sbarco negato. La nuova tappa del caso Diciotti, o forse meglio il dossier Salvini, si svolgerà tra circa un'ora, luogo la Giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato, chiamata a pronunciarsi sulla richiesta del Tribunale dei Ministri di Catania di poter processare, come ormai noto, il Ministro dell'Interno per sequestro di persone aggravato. Il documento, redatto dall'Avvocato nonché Ministro della Pubblica Amministrazione, Giulia Buongiorno, punta a una difesa rigorosamente tecnica, non politica, cioè di una scelta però politica a tutti gli effetti compiuta nel preminente interesse pubblico dettata da ragioni di sicurezza e ordine pubblico. Tesi fondata su un contesto base più ampio, a spiegare i motivi della decisione, quello riguardante la questione della ridistribuzione dei migranti tra i vari paesi europei, perché la vicenda, si legge nella memoria, non può essere considerata se non all'interno della sua coerenza con una politica dello Stato sui flussi migratori, peraltro risultante anche nel contratto di governo. Sull'esito del voto della Giunta pesa ancora l'incertezza degli alleati di Governo e 5 Stelle. Sono sette i membri presenti in Giunta che non hanno ancora scelto come votare in certi divisi come sono tra questioni di principio, non negare mai autorizzazioni a procedere, tesi sostenuta per esempio da Morra e ragionamenti specifici applicati a una realtà dei fatti che lega a Salvini l'intero governo. Anche le parole di Di Maio, oltre a quelle di Conte, vanno in questo senso. Siamo sempre stati contro l'immunità parlamentare, ma stavolta è diverso. Schierata con la Lega contro la richiesta a procedere contro Salvini, Forza Italia intenta ad allargare ogni crepa governativa per staccare l'alleato solo elettorale dall'abbraccio governativo con Di Maio. Dopo la richiesta di Tajani a Salvini di staccare la spina per il Venezuela, ora arriva anche Berlusconi che dice il centro-destra tornerà unito. Andiamo in Venezuela adesso, o meglio, in realtà andiamo a Montevideo, in Uruguay. Che cosa succede a Montevideo? Succede che c'è la riunione del cosiddetto gruppo di contatto, ovvero quei paesi che hanno deciso di mettersi insieme per trovare una soluzione, una via diplomatica alla crisi che sta attraversando il Venezuela. Parteciperà anche il nostro ministro degli esteri, Enzo Moavro Milanesi, che però è l'attore, diciamo così, di una posizione di neutralità fra i due presidenti venezuelani. Posizione che è stata ribadita anche oggi con una lettera pubblicata su Avvenire dal vice presidente del Consiglio Di Maio. Guaidò ringrazia per il riconoscimento formalizzato da numerosi paesi alla transizione democratica in atto. Maduro non accenna a passi indietro e dà sostegno assoluto alla proposta di mediazione avanzata da Messico, Uruguay e altri paesi sudamericani. Si apre oggi a Montevideo, capitale uruguayana, il vertice del gruppo di contatto internazionale promosso dall'Unione Europea. Sul tavolo la mediazione che i paesi sudamericani hanno definito di diplomazia attiva, propositiva e conciliatoria per contribuire a far sì che il popolo venezuelano e gli attori implicati possano trovare una soluzione alle loro divergenze. Una riunione di alto livello a cui partecipa il nostro ministro degli esteri Enzo Moavero Milanesi per portare avanti la linea di neutralità finora affermata dal governo italiano. L'Italia è infatti l'unico paese europeo che non ha riconosciuto legittimità a Juan Guaidó che può ottenerla solo dal popolo venezuelano, ribadisce questa mattina il vice premier Di Maio in una lettera a Guaidó pubblicata dall'Avvenire. Siano i venezuelani a decidere del loro futuro attraverso nuove elezioni. Roma incoraggia un dialogo costruttivo tra le parti anche con l'obiettivo di non alimentare ulteriore divisione a livello internazionale e le sue possibili conseguenze in termini di destabilizzazione del paese, scrive Luigi Di Maio. Intanto l'autoproclamato presidente ad Interim procede per la sua strada e secondo quanto dichiarato dal senatore repubblicano statunitense Marco Rubio all'Wall Street Journal, Juan Guaidó sarebbe intenzionato a breve a nominare un nuovo consiglio di amministrazione per CITGO, la controllata americana della compagnia petrolifera di Caracas, un nuovo consiglio che sarà riconosciuto dalle leggi statunitensi. Washington ha imposto sanzioni alla compagnia petrolifera per spingere Nicolas Maduro a dimettersi di pari passo, la compagnia venezuelana ha annunciato un ricorso legale per impedire, afferma un comunicato agli Stati Uniti di impossessarsi di CITGO. E a proposito di negoziazioni, ci riprova Teresa May che oggi va a Bruxelles nel tentativo di trovare anche lei una strada per la Brexit e lo fa l'indomani dello sfogo, insomma sicuramente un po' fuori dai canoni diplomatici del presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Che cosa ha detto Tusk ieri? Ha detto ci deve essere un posto all'inferno per quanti hanno promosso la Brexit senza nemmeno avere un piano per portarla a termine in sicurezza. ovviamente c'è stata insomma una levata di scudi a Downing Street i giornali londinesi questa mattina riportano la frase ma questa è la situazione il problema è che Juncker ha già detto no ma non si può rinegoziare assolutamente niente quindi vedremo che cosa otterrà la May. È il momento della cronaca, la cronaca italiana sapete della confessione dei due ragazzi che hanno sparato a Manuel Bortuzzi ci sono le immagini proprio di quel momento ve le mostriamo se pensate che vi possono dare fastidio state un po' attenti. Sono in carcere a Regina Celi accusati di tentato omicidio e porto abusivo di arma Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano questi i nomi dei due giovani di Acilia di 24 e 25 anni che hanno confessato di essere i responsabili della sparatoria al quartiere AXA di Roma in cui nella notte tra sabato e domenica scorsa è rimasto gravemente ferito Manuel Bortuzzo il giovane nuotatore trevigiano raggiunto da un proiettile e che resterà paralizzato agli arti inferiori. Era buio dopo quella rissa all'esterno del locale ci sentivamo minacciati abbiamo sparato per sbaglio questa la versione dei due fermati dopo l'interrogatorio dal pubblico ministero entrambi hanno precedenti per droga uno di loro anche per rapina ieri pomeriggio si sono presentati spontaneamente con i loro avvocati alla questura di Roma avrebbero dunque colpito la persona sbagliata nel tentativo di regolare dei conti in sospeso a sparare ha spiegato il difensore Alessandro De Federicis sarebbe stato Marinelli passeggero a volto scoperto mentre Bazzano guidava lo scooter un tragico errore ha aggiunto il legale le forze dell'ordine li cercavano da tre giorni in un prato non lontano dal luogo della sparatoria era già stata ritrovata una pistola calibro 38 da cui sarebbero partiti i tre proiettili anche quello che ha raggiunto ad un fianco Bortuzzo provocandogli la gravissima lesione al midollo giudicata dai medici irreversibile in ospedale Bortuzzo ha ripreso conoscenza la volontà dei familiari è quella di trasferirlo prima possibile in un centro specializzato per cominciare la riabilitazione il padre gli ha detto che non potrà camminare e lui cercando di rincuorare i genitori ha risposto voglio tornare a casa andiamo a Genova adesso perché è iniziata diciamo la parte di demolizione importante di ciò che resta del ponte Morandi e contestualmente va avanti anche l'inchiesta e ci sono delle risultanze interessanti 36 metri di strada nel moncone di Ponente sarà il primo tratto del ponte Morandi ad essere smontato sta per essere calato da un'altezza di 48 metri pesa oltre 900 tonnellate è una gigantesca trave di calcestruzzo sono previste oltre 7 ore di lavoro ma il vento forte potrebbe rallentare l'intervento entrano nel vivo oggi le operazioni di rimozione del viadotto di Genova crollato il 14 agosto scorso prosegue intanto l'inchiesta da parte della procura secondo il quotidiano la stampa i periti di Palazzo di Giustizia sono entrati in possesso di nuovi elementi portati dalla Guardia di Finanza documenti che riguarderebbero se Cavalcavia tra i quali il Morandi sarebbero decisive anche le testimonianze di due tecnici le documentazioni preziosi acquisite dai magistrati proverebbero scrive il quotidiano torinese come i tecnici del provveditorato alle opere pubbliche incaricati di esprimere un parere sull'intervento di restauro al viadotto Polcevera avrebbero ricevuto da autostrate dati alterati un report modificato che avrebbe presentato la struttura in condizioni migliori di quanto fosse in realtà per la prima volta in questa inchiesta viene ipotizzato un reato doloso informazioni fallate contenute in sei faldoni consegnati alla Commissione sulla base di quei dati manomessi i tecnici approvarono il progetto di consolidamento sebbene con valutazioni finali molto critiche su alcuni aspetti senza prevedere la chiusura del tratto di strada nemmeno in maniera parziale decisione che spinse il magistrato a indagare tutti i membri della Commissione che ora però potrebbe vedere alleviata di molto la sua posizione ed è il momento di goderci le immagini della medaglia d'oro allo sci almoio mondiale di sci alpino di un azzurro i luoghi di origine non avrebbero fatto certo presagire a una carriera così trionfale d'altronde se sei nato in Val d'Ultimo la più isolata e tra le più povere dell'Alto Adige è difficile quasi impossibile pensare di installarsi sul tetto del mondo invece Dominique Paris demme per gli amici ha ieri scritto una pagina di storia che lo colloca di diritto tra i miti dello sci con una prova regolare che a lui stesso non era sembrata granché ha domato le insidie del tracciato di ore rimasto indigesto a molti dei suoi rivali e il pettorale numero 3 non lo aveva di certo favorito il Super G è in assoluto la disciplina più difficile perché si viaggia oltre 100 orari e a differenza dalla libera non esistono prove cronometrate nonostante una correzione di linea nel tratto finale lo abbia costretto a rallentare nessuno ha saputo fare meglio dell'azzurro appena 9 centesimi di vantaggio sul francese Clary e l'austriaco Krik Mayer che si sono divisi la medaglia d'argento con un ex equo lasciando così vuoto il gradino più basso del podio quarto l'altro azzurro Christophe Nerofer un oro fantastico per il 29enne carabiniere che va ad aggiungersi all'argento in discesa ai mondiali di Schladming del 2013 oltre alle 12 vittorie ottenute sinora in Coppa del Mondo la fiaba di Dominique Paris che da ragazzino veniva mandato dal padre manovale a custodire le capre si gode ora questo incredibile successo con un pensiero al fratello René scomparso sei anni fa in un incidente stradale mentre in moto percorreva i tornanti della sua Val d'Ultimo una vita a ritmo di rock scandita dalle corde della sua chitarra elettrica e dalla passione per le heavy metal un grande talento ma anche tanto duro lavoro sugli oltre 100 kg di muscoli che lo hanno reso il numero uno della velocità già pronto a ripetersi nella libera di sabato e perché no anche nella combinata di lunedì prossimo e allora ovviamente siamo qui che facciamo il tifo 7.48 in questo momento Paolo Sottocorona come sempre pronto a raccontarvi che tempo farà e poi Gaia Tortora alla conduzione di Omnibus vi aspetto come sempre se volete domani mattina a partire dalle 7 con la rassegna stampa buona giornata Grazie